Maldini e Massara esonerati, licenziati dal Milan, direttamente dalla società. Per me con questa decisione finisce un ciclo, il ciclo che il Milan aveva costruito in questi 3-4 anni con Maldini e Massara che ci aveva portato allo Scudetto, a una semifinale di Champions, prima però al ritorno in Champions e finisce qua. Finisce tutto qua, secondo me oggi non capisco, sono senza parole, non ho davvero le motivazioni che possano giustificare questa scelta. Partiamo dal principio. Allora, c'è stato un incontro in centro a Milano, si parla di un incontro durato pochi minuti dove Jerry Cardinale, incontro tra Jerry Cardinale e Maldini, dove appunto il numero 1 del Milan, Jerry, abbia detto a Maldini, guarda, non rientrate più nei piani, siete licenziati. Questa è la prima versione, mentre la seconda versione è che ci sia stato un incontro più lungo, insomma neanche un'ora comunque, dove i due abbiano discusso di eventuali punti, per esempio più potere per Maldini e Massara ha più potere decisionale e Maldini inoltre chiedeva anche conferme per il futuro, cioè nel senso, cosa faremo? Cosa si farà di questo Milan? Che intenzioni ci sono? Insomma, da lì c'è stata una discussione che ha portato al licenziamento da parte della società, quindi non ci sono state dimissioni almeno per quello che si dice adesso. Però ecco, ne avrete sentite tante di queste notizie, quindi era giusto per fare il punto della situazione, ora vi dico che cosa ne penso io. Jerry Cardinale è quello che è arrivato al Milan dicendo non so neanche che il Milan avesse tutte queste Champions, cioè non sapeva neanche quanto Champions avesse il Milan e ha avuto il coraggio così di punto in bianco, sembra, ma secondo me non lo è, di mandare via Maldini e Massara, ma Massara grandissimo ruolo, grandissima persona, grandissimo lavoratore, però con tutto rispetto non ha lo stesso valore di Maldini, non a livello lavorativo ma a livello di figura intendo, perché signori Maldini stiamo parlando della figura più importante della storia del Milan, anche tu hai il coraggio di mandare via così, cioè così dal nulla e qua secondo me c'è qualcosa che davvero non va, perché le giustificazioni di questa scelta sembrano essere le valutazioni di mercato, il mercato estivo di questa stagione che non è piaciuto, ok, quindi Decetelero, Righi, tutti loro, e cioè io onestamente penso che è vero, Maldini magari, cioè Maldini e Massara non abbiano fatto il miglior mercato possibile, perché di tutti i colpi che sono arrivati, diciamo che molti sono stati flop, se non quasi tutti, e quindi non è che adesso Maldini deve vivere di riconoscenza, di status, di simbolo, perché ha sbagliato probabilmente, Maldini e Massara hanno sbagliato in alcune cose, però, 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 c'è da dire, perché Maldini se ne va? Nel senso, ricordiamoci che quando Maldini ha firmato il rinnovo l'anno scorso, gli ho detto, io rimango qua solo se ci sono delle aspettative future, dei veri progetti futuri che il Milan non deve rimanere tra la zona Europa, League, Champions, se va bene, no, il Milan deve puntare a vincere, queste erano le parole di Maldini, quindi lui ha firmato e noi ci aspettiamo da tifosi che ci siano queste aspettative future, però dopo questa decisione le cose sono due, o quando Maldini ha firmato, non c'erano realmente queste aspettative, lui ha firmato sulla fiducia, oppure c'erano questi progetti che la società non ha intenzione di mantenere, quindi è questa, secondo me, con le parole che va dato Maldini, l'aspettativa che ha questa società, perché sappiamo che un fondo ha voglia solo di essere in positivo per il bilancio, non in negativo, cosa che sta riuscendo a fare su quello, complimenta la società, però, ecco, non penso ci siano delle intenzioni per portare avanti il Milan per quanto riguarda i risultati sportivi e questo, secondo me, è anche quello che ha provocato delle tensioni che ci sono in realtà da tanto tra Maldini e la società, quindi, cioè, insomma, ci sono tanti dubbi che risolveremo nei prossimi giorni, però attualmente commentiamo questo, perché c'è da commentare questo e ovviamente loro ne sanno di più. Ora, cosa succede? Beh, la squadra si dice che non sembra averla presa benissimo, questo non lo so, però c'è stata Leao che ha commentato, ha pubblicato un nemotico indubbioso, tipo, ma cosa sta succedendo? Perché, ecco, è arrivato di punto in bianco questo licenziamento che però, secondo me, ecco, almeno da parte della società era mirato da un po', un licenziamento che adesso avrà ripercussione anche sull'allenatore? Non lo so, perché anche lì che io mi chiedo, nel senso, il licenziamento di Maldini, ok? È una questione legata solo al mercato, a queste cose qua, non possono essere risultati di campo, perché poi si è parlato anche delle frecciatine che ha dato Maldini in conferenze pubbliche, quindi, insomma, chi diceva, sì, però dobbiamo investire, noi non siamo attualmente forti e così varie, quindi frecciatine comportamentali che non sono piaciute alla società, ci può anche stare, ma non lo so, in realtà, però, ecco, dicevo, non sono prestazioni di campo, perché, nel senso, a quel punto, beh, toccare l'allenatore che è pioli, e così, almeno al momento, non è stato, quindi vedremo, vedremo anche quello, si capirà, però, la questione è anche che adesso si parla di possibile inserimento di Tare, che è subito stato escluso, si parla di, la situazione più probabile dovrebbe essere quella di un avanzamento di ruolo di Moncada e dell'affiancamento di Giorgio Furlani, uomo di fiducia di Jerry Cardinale, saranno loro che prenderanno il posto di Maldini e Massara molto probabilmente, però, ecco, il mercato adesso ne le sentirà, perché già sono stati annullati in sede degli incontri che c'erano per Love to Chic, Kamada adesso vedremo, vedremo la situazione Brian Diaz, insomma, probabilmente cambierà la visione, perché non ci sono più Maldini e Massara, non c'è più l'uomo simbolo, non c'è più il Milan, l'uomo che voleva il bene del Milan, e questo noi tifosi lo risentiamo, perché, ripeto, Maldini ha fatto sui errori, ma, cioè, metterti contro Maldini, mandare via Maldini vuol dire metterti un intero mondo Milan contro, sicuramente non è la cosa migliore che possa fare in questo momento il Milan, anche perché Maldini e Massara ti hanno portato allo scudetto e a una semifinale di Champions, cioè, cosa avrebbero dovuto fare di più questi due per farsi confermare con la squadra, è che c'è perché in realtà non è rimasta quella dell'anno scorso, addirittura secondo me si è indebolita, perché con tutti quelli che sono andati via non li hai sostituiti veramente, e lì magari ci può essere stato un errore, sì, come dicevo di Maldini e Massara, ma con quale budget avrebbero dovuto farlo, nonostante poi il Milan sia in Italia la squadra che forse abbia speso di più, c'è da dire anche quello, a favore della società, come c'è da dire che Maldini ha detto che questa è una stagione da 8, beh, secondo me, ma ne parleremo in un altro video, non è una stagione da 8, io sono più a favore delle parole che ha detto Pioli, magari 8 in Champions, 6 in campionato, ma neanche forse 6, e quindi un 7 totale, non lo so, 7 scarso, perché comunque poi prestazioni in campo, tu sei arrivato quinto in realtà, però nonostante tutto hai centrato la qualificazione in Champions, semifinale Champions, quindi per i risultati effettivi, non come sono arrivati, che mi riferisco al quarto posto in campionato, ecco, non può essere una stagione negativa, quarto posto, sì, è quello l'unico dubbio, il quarto posto, cioè da campione in Italia, ecco, non è proprio il massimo, però contando tutto non è una stagione super super negativa, perché tu hai centrato il posto Champions, sei arrivato in segno in finale, e la Coppa Italia e la Supercoppa sono andate, vabbè, avete capito, no? Comunque, questo secondo me è un segno di ridimensionamento, no? Che fa capire l'intenzione della società, la sostenibilità economica, vogliono questo, che secondo me comunque è sostenibilità che si raggiunge anche attraverso i risultati sportivi, però io davvero continuo a non capire anche perché Maldini e Massara erano due che erano sempre presenti a Milanello ogni giorno, cosa che non fa nessun altro dirigente in nessuna società, essere ogni giorno lì, avevano creato un gruppo, un progetto, un ambiente positivo con i giocatori e poi noi sapevamo da tifosi che quando parlava Maldini, cioè diceva la verità, diceva le cose come ne stanno, e quindi davvero, ripeto, non ho parole, è stato toccato forse il tasto sbagliato, come abbiamo detto, e sicuramente ci saranno delle conseguenze da parte dei tifosi, anche che già avevano esposto nell'ultima giornata di campionato uno striscione, dicendo la società, cioè sborsate i soldi, noi vogliamo gli acquisti, risposta della società, manda via Maldini e Massara, bene, io non so cosa dire, davvero, sono senza parole, quindi vedremo, vedremo quello che accadrà, la società ha sicuramente le sue motivazioni per farlo, che possiamo condividere o meno, ma spero, penso che ci siano delle motivazioni giuste, anche se ecco, in questo momento non le potrei capire, però ecco, dobbiamo ricostruire, Maldini e Massara non ci sono più, è così la realtà dei fatti, credo che personalmente ritorneremo con questa idea, forse, zona sesto, settimo posto, ovvero quello che, secondo me, sono sempre state le intenzioni di questo club, io l'ho sempre detto e me ne prendo la responsabilità di questa società, scusate, non di questo club, quindi della società che c'è attualmente in questo club, mi prendo la responsabilità nel dire che, secondo me, la società, come ho sempre detto, ha la mentalità di una provinciale, anche perché americani che, con tutto il rispetto, forse non ne capiscono di calcio quanto potremmo capire Maldini o Massara, poi non dubitiamo adesso del talento di Moncada, per esempio, io ora Giorgio Furlani non lo conosco, quindi non voglio dire nulla, però Moncada sappiamo che è un ottimo scout, scopre tanti talenti, ne ha scoperti tanti, però la cosa che più mi preme anche è che, signori, con l'addio di Maldini, cioè noi perdiamo, sì il simbolo del Milan, ma una figura importante per il mercato, cioè un po' come era Gagliani prima, un po' come è stato anche Leonardo, nel senso, i vari Teo Hernandez e tutti gli altri che sono arrivati, molti non sono arrivati per i risultati sportivi, perché sono arrivati quando il Milan faceva ridere, cioè, parliamoci chiaro, Maldini ha detto a Teo Hernandez, vuoi venire? Non l'ha detto Giorgio Furlani, con tutto il rispetto, e Maldini, se ti chiama Maldini, tu dici, ok, Maldini mi sta parlando, non mi sta parlando uno qualsiasi, e quindi anche quello secondo me farà tanto, perché non c'era più il nome di Maldini che ti chiama e ti attirerà l'attenzione, ma dovrai conquistare i giocatori solo su risultati sportivi, se così manterranno le cose, perché il Milan ha perso lo status di Milan che aveva prima, è così, lo sappiamo tutti, e quindi se ti chiama al Milan, ti chiama Maldini, e tu dici, aspetta un attimo che ci penso, ti chiamo al Milan con Giorgio Furlani, che balla tra il quinto e il quarto posto, che magari il prossimo anno non sopra neanche i gironi di Champions, ti dirò, ma chi me lo fa fare? È così, e poi vedremo anche adesso la squadra che c'è, come ne risentirà, se qualcuno andrà via, chi rimarrà, perché adesso sì c'è stato rinnovo delle A, ma secondo me può cambiare tutto, e non è escluso, non è, cioè nel senso non è una comunicazione altro, ma non è da escludere a questo punto anche un eventuale addio di Pioli, nonostante si pensa che abbia tutta la società a favore, no? Pioli comunque vive della fiducia della società, quindi ecco, vedremo, però non lo so, in questo momento non so cosa dire ragazzi, io vedremo, vedremo, c'è solo questo, da aspettare e capire e lasciare forse vuoto San Siro per un po' per farglielo capire se le cose non andranno come si deve, perché qua adesso bisogna gestirla bene, perché hai fatto un passo che non dovevi fare, ora attenzione a quello che fai, ecco, sono così le cose, quindi vedremo, capiremo di più, io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi nuovi video, vi ricordo che in descrizione trovate anche tutti i link agli altri miei social, e niente ragazzi, con questa delusione che non riesco ancora a capire, vi dico che ci vediamo alla prossima e vedremo, ne capiremo di più, grazie per tutto il supporto e sempre e ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!